Entro il prossimo mese di settembre il Consiglio Provinciale di Chieti avrà a disposizione tutti gli elementi per procedere alla donazione dell'immobile e alla contestuale trasformazione del Consorzio Negri Sud in fondazione. È quanto emerso dalla riunione convocata dal Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio, servita a fare il punto della situazione sullo stato dell'arte della vicenda che riguarda il centro di ricerca, i cui dipendenti, circa 200, sono in cassa integrazione straordinaria a zero ore. All'incontro hanno partecipato il Direttore del Negri Sud, Gianni Tognoni, il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Abruzzo, Emilio Nasuti, rappresentanti sindacali, i capigruppo consigliari e il Sindaco di Santa Maria in Baro. È arrivata una buona notizia che è quella della valutazione del patrimonio del Consorzio Mario Negri Sud. La valutazione porta praticamente ad azzerare il debito, quindi non c'è più debito patrimoniale. Questo ci semplifica un po' il percorso e abbiamo ridisegnato la roadmap, che consiste in tre fasi importanti. La prima è la consegna da parte del Mario Negri giovedì della valutazione del patrimonio, che sarà, come ho detto, una valutazione positiva. La seconda è la valutazione dell'immobile da parte della provincia, che si è conclusa e domani verrà formalmente consegnata alla presidenza di questo ente, che valuta 28 milioni il complesso che ospita il Mario Negri Sud. La terza è la valutazione legale, che ci verrà data da un legale nominato dall'ente, che ci scioglierà tutti i nodi che ancora ci sono e ci chiarirà i dubbi che servono appunto per dare al Consiglio provinciale un quadro preciso, entro il quale deliberare e deliberare con piena coscienza e piena tranquillità. Io sono fiducioso e spero veramente che la fine di settembre, così come oggi abbiamo stabilito come scadenza da parte del Consiglio provinciale per approvare questa delibera, venga rispettato. Ottimista anche il direttore del Negri Sud, Gianni Tognoni. Mi sembra che ci sia una conferma che sembra assolutamente collegata con delle date, di arrivare a fare il primo passo fondamentale di una approvazione di questa nuova realtà, riconosciuta come abruzzese, non come esterna, e che dovrebbe concludere il tutto per il 30 settembre. Questo per noi è un dato importante, mette delle scadenze, se riusciamo a combinarlo col fatto di annullare il ritardo che abbiamo nei pagamenti del stipendio dovuto ai ritardi di pagamento di cose già fatte da due anni, è chiaro che questo cambierebbe tutta la prospettiva, perché è quello di cui ha bisogno la ricerca, nel senso di avere un futuro, e tutte le persone che al Negri lavorano con questa speranza di futuro penso che possano soltanto vedere la speranza che questa volta le date siano mantenute e effettivamente si crei una realtà abruzzese.